Salve a tutti, la nostra azienda nasce 30 anni fa a conduzione biologica e negli ultimi anni abbiamo sviluppato il settore del miele e siamo arrivati ad essere i produttori biologici più grossi nella provincia di Peserolvino e uno dei più grossi della regione Marche, abbiamo quasi 400 alveari e una produzione di 300 quintali di miele anno, da due anni a questa parte abbiamo iniziato a produrre anche polline e soprattutto polline fresca perché è un alimento che è poco conosciuto ma ha tantissime proprietà nutrienti e forse uno degli alimenti più nutrienti in natura che riusciamo a trovare. Nonostante il biologico che ha molte problematiche ma soprattutto per riuscire a salvaguardare le api dal punto di vista di attacchi di acari, birosi, pesti ma nonostante le nuove tecniche di apicoltura riusciamo a salvare proprio queste api senza l'utilizzo di interventi con farmaci e sostanze chimiche e appunto per questo il miele biologico si differenzia da quello convenzionale perché utilizzando all'interno di alveari sostanze chimiche queste sostanze vengono assorbite dalla cera che è una sostanza grassa e poi vengono a sua volta nel momento in cui le api mettono il miele all'interno delle cellette e vengono assorbite dal miele e dunque nel miele convenzionale abbiamo sempre residui chimici. Concludo dicendo che sono felice di fare questo lavoro perché con l'allevamento delle api si riesce a mantenere un alto livello di biodiversità e non alterando la natura e l'ecosistema ma mantenendolo. Grazie mille.